Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, mercoledì 22 maggio, sono le 7.09, ben ritrovati qui su Crystal Radio, ben ritrovati in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano. Ogni mattina dalle 7 alle 9 è qui per raccontarvi appunto quello che succede nella nostra città. Come state, come vedete, dove andate, cosa state facendo di bello, potete raccontarcelo al 3317853555, il numero di Whatsapp con cui appunto potete raccontarci un po' tutto quello che avete in mente di fare oggi, quello che vorrete fare nella giornata di oggi, oppure magari se state già pensando a cosa fare durante la settimana, insomma oggi in questo momento non c'è la pioggia ma io vi dico una cosa, portatevi un bel ombrello perché a se serve, perché qui non si capisce più niente, signora mia non ci sono più le mezze stagioni qualcuno direbbe, ma è proprio così, nel senso che è davvero una situazione insomma abbastanza allarmante e disarmante. Comunque, questa mattina appunto fino alle 9 è ancora in diretta, il numero di Whatsapp lo avete, 3317853555, potete scriverci, potete raccontarci tutto e noi siamo qua appunto per raccontarvi un po' quello che succede a Milano, abbiamo i giornali davanti, avremo un po' di ospiti, parleremo di tante e tantissime cose anche quest'oggi, come tutte le mattine, grazie anche alla vostra compagnia, grazie anzi al vostro supporto che ci date ogni giorno, sia qui sull'FM96.2 di Crystal Radio, ossia sulla Dub Plus, sì, quella modalità un po' digitale che c'è sull'autoradio, no? Ecco, ricordatevi sempre che ci siamo anche lì, con l'autoradio ci portate dove volete, in tutta Lombardia potete ascoltarci, quindi anche se uscite dai confini del Regno, o meglio dai confini di Milano, bene, potete sentirci comunque anche oltre il confine e come potete sentire anche la grande musica di Crystal Radio alle 7 e 11 minuti. Good morning Milano, The Clash, rock the casbah. I Clash con rock the casbah, alle 7 e 15 minuti qui su Crystal Radio, dove stanno arrivando anche già i vostri whatsapp, come sempre mattinieri e che si svegliano insieme a noi. Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, buongiorno a te Alberto. Preparandoci per uscire di casa, ascoltando il direttore, Crystal Radio ci prepariamo alla nuova giornata, con le dita incrociate, è vero, non so bene, il mete ormai dà qualsiasi cosa possibile e immaginabile, cioè pioggia, no sole, no grandine, tutto, tutto, cioè Paris sta con una grandinata per questa sera, vi dico solo questo, cioè al momento nubi sparse dà, però poi potrebbero arrivare delle piogge, allora, al momento, il sito quello lì con l'articolo davanti per intenderci, non dà pioggia per oggi, così, anche se in realtà però poi verso le 7 dice che potrebbe esserci un temporale, ma tra le 18 e le 19 potrebbe esserci un temporale, però non dice altro, speriamo, io fossi in voi, adotterei la strategia London Bridge, che è quella di portarsi dietro un ombrello ovunque vi andiate, oppure come faccio io, cappellino e cappuccio, che possono bastare. Insomma, questo è quello che oggi ci riserva la città, speriamo in bene, perché davvero non se ne può più, le notizie sul maltempo continuano ad esserci, anzi, pensate che leggiamo da Corriere della Sera Milano, maltempo, cosa sta succedendo a Milano, in tre mesi è caduta la pioggia di un anno, quando tornerà il sole? Allora, non l'ho ancora letto l'articolo sotto, volete vedere che ci dicono a fine mese, visto che ormai è un live motive, le perturbazioni del nord Europa, il ruolo del cambiamento climatico, l'impiatto delle piogge abbondanti sui fiumi e la rete fognaria, il nord Italia è sotto scacco del maltempo, secondo la Coldiretti sono 70 gli eventi estremi che si sono scatenati solo in Lombardia nell'ultima settimana, ovviamente conseguenze sono lagamenti negli edifici, alberi caduti, nel comasco c'è anche una vittima, e quindi insomma gli esperti hanno un po' cercato di dare delle risposte, e alla domanda cosa provoca i nubi fragili temporali di questi giorni, Mattia Gussoni, meteorologo del sito, quello lì con l'articolo davanti, come si può dire, il meteo.it, che c'è scritto su questa sera, la settimana scorsa una vasta perturbazione di discesa dal nord Europa ha scatenato temporali forti in Lombardia, a Milano sono caduti tra i 100 e i 120 mm d'acqua in poche ore, lo stesso quantitativo che di solito si registra in un mese intero. Tra Bellinzago, Lombardo e Gessate si sono toccati 200 mm, nel Mantovano una supercella temporalesca ha creato un tornado di grado F2, con un vodice di vento a 180-200 km all'ora, insomma qualcosa veramente che neanche nel Texas. Quanto ha piovuto all'inizio dell'anno? Viene chiesto appunto agli esperti, che vanno a scrivere i meteorologi, comunque vabbè. A Milano, che possiamo prendere come riferimento per la pianura padana, sono scesi circa 800-900 mm di pioggia, considerando però che a gennaio e febbraio sono stati relativamente miti. Le precipitazioni si sono concentrate tutte in primavera. Si tratta di un quantitativo ingente, in un periodo molto breve. La media annuale è di 1000 mm. Quindi comunque siamo in media, no? Ah no, ma la media annuale, scusate. No, scusate, in tre mesi neanche abbiamo fatto 900 mm, quando in realtà, quattro mesi, cinque mesi, 900 mm, quando in realtà in un anno di solito ne facciamo 1000, quindi vabbè, adesso vedremo. Io vorrei capire se a fine anno però la media rimane quella, perché se la media rimane quella è un dramma, perché vuol dire che adesso piove tutto adesso e poi da qui fino a fine anno abbiamo solo 100 mm d'acqua. da gestirci e quello è veramente un problema. Date un'occhiata. Corriere della Sera Milano finalmente rispondono a delle domande. È interessante. Come le domande, come le risposte che ci dà Luce Verde. Buon compleanno. Eh sì, sapete perché? Ieri è il compleanno di Gali e quindi tanti auguri Gali, tanti auguri al bravissimo Gali, al nostro milanesissimo e baggese Gali, 31 anni ieri, ha fatto un paio di post, anche sui giornali ne parlano tanti, quindi insomma in ritardo, ma gli facciamo molto molto volentieri gli auguri. Questo è appunto i ragali con casa mia, so poi che Gali è molto apprezzato da alcuni che ci scrivono la mattina, quindi insomma sono molto contento. Invece, già dirlo, ancora per l'ennesima volta ci fate arrabbiare. Con chi ce l'ho? Con quelli che devono fare le cose in questa città. Perché ieri esce la notizia e subito ho detto ma no, anche qui, di nuovo, ancora. Vi do la notizia, ve la leggo. Corriere della Sera, Milano. Olimpia di Milano Cortina 2026, corruzione e gare toccate per l'appalto servizi digitali. indagato l'ex AD Vincenzo Novari. Basta, ma perché ogni volta che c'è qualcosa di bello in questa città dobbiamo mandarlo in quel paio? Ma perché? Davvero ci fate, cioè lo spirito olimpico, le cose, io so che forse a volte vivo in un mondo fatto di fate, gnomi e unicorni, però davvero perché dovete rovinarci sempre tutto? Perché dovete rovinarci la passione che magari, non solo i bambini, perché poi si diceva i bambini, no, non solo, perché ci sono adulti di grande età, ben elevata, appassionati di questa cosa, che erano felici, che festeggiavano. Ragazzi, io c'ero in piazza Gaia Olenti il giorno che abbiamo saputo che sarebbero arrivate le Olimpiadi Milano e vi assicuro che con me c'era tanta altra gente che era felice, festeggiava, perché Milano finalmente tornava di nuovo, dopo Expo, a essere al centro del mondo con una bella iniziativa che sono le Olimpiadi Invernali. Sì, non so che non c'è la neve a Milano, non ci sono neanche le montagne, ma si può fare ormai. E quindi perché dovete rovinarci sempre tutto? Perché dobbiamo dar ragione ai qualunquisti, ai populisti, a quelli che... all'università della strada? Perché dobbiamo dar ragione a quella gente lì? Perché ci date modo di dover dar ragione a quelli che dicono che è tutto uno schifo, che è tutto un magna magna? Perché io non voglio dar ragione a quella gente, io non voglio pensare che il mondo sia davvero così. Però davvero, perché ancora per l'ennesima volta e fate i palazzi e li fate sbagliati con i permessi che non ci sono e si scopre che ci sono delle cose che non vanno bene, quindi lì e là e la magistratura deve intervenire. E vogliamo fare Expo e indagiamo chiunque che deve fare Expo e chiunque viene indagato. E dobbiamo fare Olimpiadi e scopriamo che c'è la corruzione, le gare truccate per gli appalti, i servizi digitali. Cioè, ma neanche... Ma io non so... Indagate... Che poi adesso voglio capire, perché poi dopo vediamo se è veramente così. A me è anche quello che un po' mi fa... Perché adesso, vabbè, le gare truccate, non mi appalto. Adesso poi, io sono delle idee che fino a prova contrario chiunque è innocente. Quindi adesso il nome di Vincenzo Novari che è uno che si è inventato una roba pazzesca che era tre. Non so se lo ricordate. Ha portato il 3G in Italia con tre... Le videochiamate, il videofonino, è roba sua, è Vincenzo Novari che lo portò a tre in Italia. Adesso finisce i giornali come il ladro più ladro di tutti. E anche lì, un attimo, cioè cerchiamo di capire le cose. Invece no, subito a spalare fango per non dire altri liquami marroni su chiunque finisca in questa situazione, ma soprattutto a spalare fango sulle Olimpiadi e che quindi tutti quelli che prima erano... Perché abbiamo avuto i No Expo, no? Poi adesso abbiamo avuto i No Olimpiadi e si trovano e dicono vedete abbiamo ragione noi. Abbiamo ragione noi. Abbiamo ragione noi. Questo dicono. E come fai a dirgli che non hanno ragione quando leggi notizie del genere? Quindi perché dovete rovinarci sempre tutto? Davvero, sono disgustato da questo e mi spiace davvero tanto perché amo tanto questa città e amo tanto quando questa città le cose le fa bene. Ma perché non riusciamo a farle sempre bene? Perché? Perché? E alle 7.30 rientriamo in studio e voglio leggervi un Whatsapp che è arrivato proprio sul tema Olimpiadi sul tema insomma di quell'angoscia che arriva puntualmente quando accadono queste cose ed è proprio questo. Buongiorno Fabio ti saluto dal mio mondo di unicorni ti capisco benissimo dice Adriana ricordo anche io quel giorno in piazza è stato super emozionante il giorno che appunto abbiamo scoperto che le Olimpiadi sarebbero state fatte a Milano e Cortina è davvero angosciante vedere ciò che puntualmente accade è vero Adriana siamo tutti d'accordo con te e speriamo di essere in tante allora a questo punto di vivere in questo mondo di unicorni Devonair Fade Out Lines 7.35 minuti seconda mezz'ora di trasmissione sempre qui su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus e poi sì tutte le altre cose lo sapete benissimo ma soprattutto a Good Morning Milano insomma tutte le mattine dalle 7 alle 9 si parla di Milano e lo facciamo anche questa mattina insieme a Nino Ferrante buongiorno Nino benvenuto buongiorno Fabio grazie a Crystal Radio e a Good Morning Milano ovviamente per appunto l'opportunità di essere qui con voi oggi ma grazie a te Nino perché insomma oggi parliamo di fotografia e parliamo di Milano Milano e fotografia insomma un binomio che a noi piace tanto perché ci piace tanto Milano ci piace tanto vedere le fotografie e poi di quella verità ogni tanto ci piace anche fare qualche foto insomma è sempre è sempre bello riuscire a raccontare qualcosa con un unico scatto o con una serie di scatti insomma che nel mondo io arrivo dal video quindi nel mondo di questi video ma che sono anche un po' inflazionati ogni tanto fare quella fotografia che magari non è la fotografia del grande artista ma è quella che ti racconta qualcosa beh è inestimabile come valore no? esatto la fotografia è un po' questo è racconto e tante cose poi ognuno la interpreta alla propria maniera poi sì la differenza più sostanziale rispetto al video è che lascia appunto lo spazio all'interpretazione alla lettura e quindi può toccare anche delle corde personali infatti e parliamo con Ternino perché appunto l'associazione che tu presiedi che è Milano Fotolab ha in piedi ha messo in piedi diciamo così una mostra in questo momento all'auxologico di via di Porcaccini scusa di Porcaccini che proprio si chiama Milan è un gran Milan e sono appunto degli scatti fotografici di Milano Fotolab di fotografie appunto che fanno parte della vostra associazione ma la cosa interessante è che insomma questo arrivo è quasi appunto un arrivo e poi la ripartenza per chi sa quante altre mostre perché so che insomma vi piacerebbe farne altre giusto? Esatto sì sì le mostre sono diciamo la possibilità appunto dà la possibilità ai nostri soci di appunto mostrare i propri lavori e quindi diciamo condividere con i cittadini perché poi sono sostanzialmente attività di territorio scatti in questo caso a tema Milano scatti che non hanno diciamo velleità artistiche ma hanno l'ambizione di raccontare questa città piena di contraddizioni piena di tante cose anche belle e raccontarle in un luogo nel quale mediamente si arriva con un po' come dire essendo una struttura ospedaliere barra ambulatori quindi diciamo che lo stato d'animo di chi è lì non è proprio il mood come dicono i giornali il mood le vibes non sono proprio le migliori anzi o meglio il mood non è il migliore le vibes che ci arrivano dalle vostre fotografie ci rendono invece magari un po' più non proprio dico felici di essere lì ma insomma comunque ci fanno passare meglio quel momento la cosa interessante però di quella di questa operazione che appunto è un percorso che voi avete iniziato tanti anni fa con invece quello che poi è diventato anche un gruppo facebook ma che era proprio l'idea di trovarvi così raduni fotografici milanesi esatto raduni fotografici milanesi è un po' la genesi del nostro percorso della nostra storia ed è nato quasi per scherzo perché era un gruppo che aveva l'intenzione di mettere in relazione appassionati di territorio quindi appassionati principalmente milanesi per consentirgli di praticare la fotografia in maniera come dire non in solitaria ecco e quindi è nato questo gruppo inizialmente su whatsapp poi era diventato ingestibile perché whatsapp è in tempo reale quindi era impossibile mettere insieme comunicazione di quel tipo e diciamo il social più congeniale per portare avanti questo progetto era facebook perché ci consente di creare appunto degli eventi quindi è un noi volevamo chi erano questi noi eravamo sette fotografi sette amici sette fotografi che a un certo punto si sono trovati a dover gestirne più di quattrocento inizialmente oggi siamo a millesettecento fotografi appassionati di territorio 1783 sto in questo momento sul vostro gruppo quindi ci sono tre che si sono aggiunti all'ultimo mentre arrivavo qui questa mattina sì perché poi c'è il passaparola questo gruppo è molto particolare io lo definisco un progetto umanografico perché parla sì di fotografia e adesso ti spiego un po' Fabio le dinamiche di questo gruppo ma soprattutto mette in relazione le persone infatti noi utilizziamo un social diciamo web diciamo un social per uscire dal web perché poi è solo un collettore per mettere assieme le persone quindi le caratteristiche di questo gruppo sono quelle di dare a chiunque la possibilità di creare un evento evento al quale diciamo possono partecipare tutti gli appassionati e successivamente a questo evento diamo la possibilità appunto su raduni fotografici milanesi di condividere le foto ma solo disclusivamente foto risultato di uscite tra iscritti spiegate bene questa perché passa così ma invece è interessante cioè io faccio parte di vari gruppi tra la gente che fa video ognuno fa il suo video fa la sua foto la pubblica il suo dice vada quanto sono bravo a mo' di vetrina gli altri lo insultano più delle volte qualcuno dice sei bravo ma raramente e finisce lì e finisce lì esatto invece non è così io mi scrivo adesso faccio una bella foto qua fuori alla nostra producer con dietro lo stadio di San Siro non puoi postarla non posso postarla non puoi postarla assolutamente perché il gruppo non è nato per essere vetrina ma è nato per mettere in relazione le persone quindi per fare questa foto devi creare un evento ok al quale possono arrivare 5, 10, 15, 20 fotografi ok a volte è abbastanza schizofrenica l'attività del gruppo perché chiunque diciamo si sveglia dice domani mattina alba in Duomo piuttosto che andiamo alla diga del pan perduto e quindi si aggregano tutta una serie di fotografi e successivamente nei due o tre giorni successivi a quest'uscita arrivano un fiume di immagini create diciamo durante la cosa particolare di questo gruppo è che non è un gruppo social di persone che non si conoscono ma è un gruppo di amici perché poi si va a fare fotografia poi si mangia insieme abbiamo visto comunque nascere amicizie storie d'amore abbiamo riempito il vuoto di qualche persona che attraverso la fotografia ha trovato una seconda casa e quindi beh allora io poi devo sapere ovviamente devo sapere anche della storia della storia d'amore tu l'hai buttato di così però sai che noi ebbe subito gossip il radio funziona benissimo ma veramente è molto interessante questa cosa cioè usare uno strumento online come quello di facebook per invece poi passare la nostra vita offline anzi andare di persona questa cosa dei raduni che vanno a fare le foto all'alba in Duomo prima o poi mi c'è Grego ti chiedo di farmi sapere quando c'è ma ho detto non per fare le foto così per vedere uno chi sono i matti che si svegliano prima di me la mattina che già ce ne vuole e poi perché vabbè comunque deve essere uno spettacolo vedere Milano con gli occhi di chi la ama e immagino che per andare all'alba fare le foto in Duomo sì devi amare la fotografia ma devi amare anche di questa città ho idea assolutamente sì piccola pausa con la musica o meglio una canzone e poi torniamo ancora qui a parlare con Nino Ferrante di Milano Fotolab di raduni fotografici milanesi delle mostre che stanno organizzando la rappresentante di lista con Paradiso e invece fatti un giro a città in Milano così a fare fotografie lo puoi fare con il gruppo di raduni fotografici milanesi invece di andare a fare un giro nella testa della rappresentante di lista che insomma non solo ci possiamo trovare forse è meglio andare in giro con voi sì bisogna svegliarsi presto bisogna avere passione se ho la passione per il tramonto assolutamente io ho parlato di albe ma vanno benissimo anche i tramonti va benissimo tutto e ti ho parlato anche di storie d'amore perché ovviamente le motivazioni che spingono le persone ad avvicinarsi a un gruppo e ovviamente sono diverse tra le tante motivazioni c'è quella appunto di trovare un compagno quindi ma ti ho parlato di un progetto umanografico e quindi ecco per diciamo finire il racconto di raduni fotografici milanesi diciamo che il fil rouge il comune denominatore è la passione per la fotografia e la voglia di condividerla con con altri questi sono i due elementi chiave del gruppo e sostanzialmente le persone ovviamente aderiscono con queste iniziative e poi hanno diciamo avuto la possibilità di trovare di approfondire anche le conoscenze non solo della fotografia ma anche dei vari fotografi diciamo così tra parentesi è molto più sano che andare in palestra posso dirlo da non sportivo esatto cioè questa cosa che voi vi iscrivete in palestra per andare a cuccare non funziona più ormai lo si sa benissimo non funziona più invece chi ne senti perché magari poi volete mettere la passione per la fotografia quanto volete parlare quanto volete discutere guardare le foto sali su da me che ti faccio vedere le mie collezioni di fotografie esatto funziona no? esatto cos'è sali su da me che ti faccio vedere i bilanceri o le farfalle o la colazione di farfalle basta dai è chiaro a un certo punto vi siete trovati però anche nel voler fare un po' di più nel senso che avete dovuto anche un po' diciamo per chi magari era un po' meno avvezzo alla fotografia al tecnicismo anzi appunto dargli la parte più tecnica giusto? quindi a un certo punto è nato all'interno del gruppo proprio grazie alla condivisione post evento delle foto ovviamente emergevano e spiccavano fotografie di alcuni un po' più come dire professionali alcuni che hanno fatto dei corsi un po' più fotografi e quindi diciamo è nata all'interno del gruppo l'esigenza di didattica di percorsi strutturati di eventi strutturati ma se l'avessi se avessi introdotto in raduni fotografici tutto quanto appena elencato avrei snaturato esatto la natura del gruppo che invece deve rendere diciamo le persone mettere le persone sullo stesso piano perché se parliamo di passione e se parliamo di voglia di stare assieme non c'entra niente non ci sono maestri esatto non ci sono maestri invece cosa è diventato con Milano Fotolab? allora cosa abbiamo fatto abbiamo diciamo con alcuni diciamo amici di quello che inizialmente era un gruppo abbiamo fondato un'associazione culturale nel 2020 ora diventata una PSTS e questa associazione culturale ovviamente si chiama Milano Fotolab ed abbiamo diciamo convogliato tutta una serie di attività tra le quali appunto le mostre quindi diciamo è solo un aspetto la mostra del nostro diciamo del nostro impegno e del nostro statuto e abbiamo diciamo portato in quel contenitore tutto ciò che è tecnica e lasciando a raduni quell'aspetto un po' Fabio uso un termine un po' un po' cazzone usciamo il cazzone di usciamo divertiamoci quella roba facciamo le foto e quindi ha quell'approccio un po' più easy però accanto c'è Milano Fotolab associazione culturale strutturata eventi didattica post produzione dove troviamo le coordinate per Milano Fotolab appunto per capire un po' meglio allora Milano Fotolab ovviamente abbiamo un sito che è appunto www.milanofotolab.it siamo su facebook punto Milano Fotolab siamo su instagram appunto Milano Fotolab e invece raduni fotografici milanesi su facebook perché diciamo il social tecnicamente più adatto a gestire eventi quella della mostra che c'è fuori dall'oxologico di Procacenesso è una mostra so che l'idea sarebbe quella di strutturare anche quella esatto la mostra in Procaceni di fatto è una come location ma i temi che si sono succeduti sono tre sostanzialmente siamo al terzo tema perché il primo tema che abbiamo trattato è stato quello delle periferie per mostrare diciamo la città non solo quella patinata del centro ma la città anche quella meno diciamo normalmente vista in fotografia la seconda fase erano le botteghe storiche e i luoghi di culto della città e ora fino al 15 di luglio stiamo sondando un po' all'aspetto romantico della città e il rapporto dei milanesi con i propri animali domestici perché Milano Fotolab è una situazione culturale pet friendly facciamo spesso delle attività di dog fotografi e quindi siamo appassionati anche di animali non è neanche facile fare la foto del proprio cane io ho una serie di foto del sedere del mio cane perché una volta che si gira Elisa tu che hai i due cani riesci a fare le foto del tuo cane insomma non è difficile quindi sarebbe un corso solo per quello esatto ma esistono esistono non li teniamo ricordatevi una cosa che se pensate una cosa nel momento in cui l'avete pensata già esiste ormai è così ormai c'è tutto e quindi questa è è stata una mostra ed è una mostra tuttora in essere molto apprezzata dai cittadini ha avuto parecchio successo al punto che Auxologico ci ha chiesto del materiale per poter arredare in modo permanente alcuni loro spazi con delle foto di grande formato in bianco e nero a tema appunto Milano e quindi abbiamo fornito del materiale di qualità per poter appunto arredare questi spazi ospedalieri che ci sia soddisfazione migliore che vedere appunto a quel punto le proprie foto della propria città diventare parte essa stessa della città esatto per me è una grande soddisfazione per i miei soci perché poi sostanzialmente i nostri soci sono quelli che hanno avuto questa possibilità ricordiamo quanti fotografi sono a Milano a Milano Fotolab siamo circa 170 180 fotografi giusto un paio come si dice in questi casi scrivilo qualcuno in più già che ci sei esatto benissimo Nino io ti ringrazio tantissimo davvero per questa tua chiacchiera per queste tue informazioni e soprattutto per le foto che fate appunto per raccontare la nostra città il progetto umanografico come lo chiamate umanografico umanografico bellissimo questa te la rubo e te lo dico questa te la rubo perché è davvero qualcosa di stupendo ok dacci una definizione di umanografico così ancora per concludere per chiudere ovviamente umanografico nel senso che c'è la parte umana la parte sociale l'interazione tra le persone e la fotografia quindi questo è un po' la definizione del progetto umanografico esiste la bella o la buona fotografia? esistono entrambe esistono entrambe la bella è una fotografia estetica ma poi si entra nella soggettività la fotografia racconta ed è come la musica parlo con te di musica perché ovviamente siamo in una radio possiamo far ascoltare la stessa canzone a cinque persone e trovarne due che piangono perché questa canzone ha toccato delle corde del proprio vissuto e tre alle quali quella canzone non dice niente la fotografia è esattamente così non c'è un un cliché insomma è un racconto e può funzionare come non può funzionare in base a chi ovviamente ne fruisce chiarissimo grazie per dover di colla che lo dico la buona la bella fotografia non è farina del mio sacco ma a Settimo Benedusi grande fotografo di Milano che spesso cito e quindi anzi che oggi cito perché oggi è suo compleanno quindi auguri a Settimo Benedusi auguri grazie mille ancora Nino saluta e porta una saluta appunto a tutti a tutti 1783 credo vediamo se si sono aggiornati perché in questo minuto qualcuno si è aggiunto in questo anno si è aggiunto no 1783 ok bisogna accettare l'iscrizione giusto è qua è come fa a accettarla giustamente quindi 1783 porta i nostri saluti a loro e anche agli altri fotografi di Milano Fotolab Fabio io ringrazio te e chiudo ringraziando anche il direttivo che lavora con me appunto alla crevente nel realizzare tutti questi progetti e sappiamo quanto è complicato essere una PSTS di questo tempo anche se fate passami i termini solo fotografie è complicatissimo davvero quindi complimenti a tutto il direttivo complimenti a tutti i soci complimenti appunto a Milano Fotolab e a Raduni Fotografici milanesi grazie mille a Nino Ferrante grazie ancora speriamo di vederci in giro magari al tramonto a fare qualche foto a me ne piace di più un bel tramonto naviglio tramonto secondo me perfetto con aperitivo annesso mi sembravano ottimo sprizzo perfetto va bene andiamo avanti con la musica e torniamo fra poco dopo il giornale radio sempre qui su Crystal Radio con Good Morning Milano Rino Gaetano con Gianna alle 8 e 09 qui su Crystal Radio Good Morning Milano tutti i giorni dalle 7 alle 9 e adesso quindi siamo nel bel mezzo del cammin del nostro trasmissione radiofonica del nostro morning show morning show che vi dico va avanti ancora per un mese siamo ancora fino a fine giugno siamo qui in diretta tutte le mattine così ve lo dico perché insomma per alcune già finita la stagione per quelli che non ce ne vogliono lavorare eh Fiorello no invece per gli altri noi continuiamo continuiamo ad andare avanti chiudiamo appunto dicevo a fine giugno il 28 giugno se non ricordo male sarà un venerdì cercheremo e lì dobbiamo inventarci una festa anche noi cioè la facciamo in diretta da Vienovara nel senso in diretta non possiamo alzare troppo lui l'ha fatto in mezzo alla strada lui aveva giovanotti noi chi possiamo portarci ci portiamo Isi e Raff il cantante dei Rolling Stone che c'era ieri ci portiamo lui ci facciamo cantare Satisfaction in diretta dalla rotonda di Settimo Milanese qualcosa del genere oh ragazzi questo è il nostro territorio qui dobbiamo dobbiamo farlo vivere facciamo una diretta con un concerto da un palazzo di Ponte Lambro qualcosa del genere con l'acqua che tanto se siamo sull'ultimo piano l'acqua ci arriva giusto alle ginocchia in questo periodo quindi va benissimo potremmo fare una roba così grande concerto finale di Good Morning Milano in diretta da una barchetta che naviga sul Seveso a metà di guarda così una piazza piazzale Istria con una barchetta ce lo facciamo noi ridiamo ma insomma sappiamo in realtà non rido solo io voi so che non state ridendo in questo momento ma sappiamo che insomma la situazione è stata veramente grave e in questo momento con una città con un cielo per fortuna pulito che non minaccia pioggia per il momento stiamo tutti però lì con il naso all'insù a guardare a pregare che non avvenga l'ennesima bomba d'acqua che potrebbe appunto perché però ogni bomba d'acqua peggiora la situazione nel senso che si sommano l'una all'altra e quindi poi le foglie e quindi poi i tombini e quindi poi i detriti negli scarichi e uno e due tre e quattro e poi dopo avviene il famoso geyser che fa uscire acqua dappertutto e quindi insomma dobbiamo sempre stare molto attenti prima dicevamo appunto che ieri è stato il compleanno di Gali che ha compiuto 31 anni sul Corriere della Sera c'è una sua intervista dice il giorno del mio compleanno è come se affrontassi il mio più grande peccato non aver fatto pace con mio padre il cantante pubblica un post a corretto di una foto che lo ritrade a bambino sul bordo di una aiuola e scrive una lunga riflessione tra cui cammino ancora oggi sui bordi delle strade come un equilibrista sui bordi del mio umore 31 anni appunto per Gali che spegne le candeline il 21 maggio e si lascia andare appunto una lunga e malinconica riflessione che pubblica sul suo profilo Instagram così dice il Corriere della Sera buon compleanno Gali mi viene da dire a me invece tanti tanti auguri prima l'abbiamo sentito appunto con casa mia insomma è quello che io sempre dico il nuovo cantore di una musica che è la musica del nostro momento è la musica soprattutto secondo me di Milano in un certo senso io veramente adesso esagero so che alcuni di voi diranno esagerato come sai diciamo che se c'è stato un periodo in cui c'era il signor G ed era il signor G Giorgio Gaber adesso c'è anche un altro momento per il signor G che invece è Gali che secondo me può raccontare tranquillamente è una realtà che non è magari così la nostra o la mia di ultra quarantenne vissuto in un certo contesto ma che è invece la realtà milanese vissuta da tanti altri ragazzi poi è giovane ma non è che ha 15 anni nel senso insomma è da 31 appunto quindi insomma incomincia anche lui ad avere una certa maturità sia a livello artistico che a livello umano e soprattutto che quando lo unisci quando unisci questi due tipi di umanità a una mente artistica a una persona così profonda come lui si può veramente avere un racconto della città che io continuo a dire non ha niente da invidiare ad altre canzoni di anni passati che raccontavano di persone con le scarpe di tennis o che raccontavano di bande dell'ortica o che raccontavano di altri luoghi di Milano e i Negramaro con Meraviglioso e Meraviglioso appunto una delle grandi canzoni della musica italiana rifatta dai Negramaro qualche anno fa oggi è il 22 maggio e se ieri era il compleanno di Gali oggi invece di chi sarebbe stato il compleanno beh allora due che non ci sono più ma che insomma hanno lasciato diciamo il segno uno nella musica uno nella politica stiamo parlando di Giacomo Matteotti che nasce oggi nel 1885 quindi 139 anni fa ma quello invece che lascia il segno nella musica è Charles Asnavour che nasceva nel 1924 avrebbe compiuto cent'anni proprio quest'oggi e invece c'è lotta in cuore insieme a noi così potremmo dire no Mick Campbell che nasce oggi il 22 maggio del 1970 quindi 54 anni e vi sfido a vedere una foto di lei dove sembri che abbia 54 anni io sembro il nonno di Naomi Campbell e ne ho dieci anni in meno quindi insomma non è non è niente male quindi insomma davvero complimenti a Naomi Campbell oggi i compleanni invece anche nello sport calcio Arturo Vidal nato 37 anni fa ma soprattutto sempre 37 anni fa ma ancora ancora in cioè sta ancora giocando in questo momento non a calcio ma a tennis Novak Djokovic 37 anni e anche in questo caso direi non sentirli perché davvero adesso a parte qualche non si può neanche chiamare svirgola sfumatura forse che fa capire che non è più al top della forma cioè io sfido comunque gli altri cioè cos'è se non è numero uno è numero quattro comunque è lì in alto ancora cioè quindi non è che come dire è ancora lì Djokovic questo qui anzi adesso vado a vedere in anzi scusate è al primo posto ancora quindi nel senso a parte qualcuno che è riuscito a battere ogni tanto è comunque al numero è il numero uno del mondo in questo momento seguito però ricordiamocelo sempre dal nostro Yannick Sinner che è l'idea che lo insegue quindi insomma 37 anni e non farli minimamente non farli vedere niente se parliamo sempre di calcio beh il periodo è questo ovviamente quando finiscono i campionati sulle finali di Champions e così nel 2010 l'Inter dopo 45 anni vince la Champions League ebbene sì 14 anni fa il Santiago Bernabéu di Madrid è lo stadio che ospita la finale tra il Bayern e l'Inter che vede vittoriosi l'Inter e invece nel 1996 28 anni fa all'Olimpico di Roma invece è la Juventus che si porta a casa la Coppa dei Campioni o meglio la Champions League come si chiama contro l'Ajax appunto nella finale della 95-96 e quindi il 22 maggio del 96 la Champions va alla Juventus quando invece il 22 maggio del 2010 la Champions va all'Inter insomma queste sono un po' quello che è successo oggi e vorrei così di darvi un'occhiata di leggervi un po' quello che è successo oggi o no tra parentesi oggi è anche insomma da milanesi non possiamo non ricordarlo il giorno della scomparsa di Alessandro Manzoni 151 anni fa e Alessandro Manzoni ha amato da tutti coloro che hanno fatto le scuole e tutti coloro che hanno dovuto assorbirsi per forza tutto quello che ha scritto anzi ma tutto semplicemente i Promessi Sposi perché cos'altro adesso so che sono ignorante su questa cosa ma avete letto qualcos'altro di Manzoni nella vostra vita no solo quello adesso sfido chiunque di me no ma io ho letto cosa avete letto solo i Promessi Sposi solo quella roba lì che ricordo anche ha in mano nella statua che c'è in Piazza San Fedele ma vergognandosene perché sa quanto lo abbiamo distrattato e quanto non volevamo leggerlo lo tiene nascosto di tutta la schiena io sono convinto che quel nascondere il libro di tutta la schiena è per il città chiedendo scusa per anni di scuola in cui ci hanno vessato con tutta quella storia lì Elisa vivere tutte le vite insieme a Carla Brave qui su Good Morning Milano 331 7853 555 il nostro numero di Whatsapp potete scriverci quando e come quello che volete potete mandarci anche agli allegati le foto in questi giorni avete riempito il nostro Whatsapp di foto del naviglio che strippava o meglio no scusate del naviglio che sembrava stesse strippando ma in realtà era lì al limite del Seviso che invece è quello strippato del Lambo che usciva ovunque l'acqua di tutte le varie situazioni che avete fatto ma anche per fortuna non solo di disastri ma anche ogni tanto quando esce c'è un barlume di sole di quale bellissime foto fatte all'alba oppure al tramonto la sera prima ce le dedicate insomma io vi ringrazio davvero perché tutti i giorni siete in tanti a scriverci al 3317853555 spesso e volentieri anche dopo l'orario di chiusura come siete in questi casi nel senso che arrivano io poi la mattina riaccendo e vedo che sono arrivati nella giornata Whatsapp dove ci salutate dove ci ringraziate per la compagnia dove insomma è bello è bello devo dirvelo devo dirvelo è bello e anzi è la benzina il carburante che ci fa svegliare tutte le mattine che ci fa venire voglia di essere qui con voi e di condividere questi momenti della mattina che so per molti di voi essere insomma abbastanza complicati perché insomma bisogna svegliarsi e già quello non è dato per scontato cioè svegliarsi non è proprio così facile è un trauma ogni mattina un parto ogni mattina è un trauma forte che il nostro corpo deve subire nell'aprire gli occhi e dire anche a mo anche in Kyrgy non da lavorare c'ha capito e quindi insomma è così che insomma funziona poi tutte le volte che invece dovete andare in università chi di voi studia so che nei tragitti in tram a quest'ora chi è che vi mette un esame alle 8 e mezza del mattino è un criminale cioè nel senso ma mettimelo alle 11 ma no quindi voi dovete alzarvi presto prendere il treno il tram arrivare in università presto perché c'è l'esame poi c'è tutta la coda e poi scoprite che siete l'ultimo che vi era chiamato nella pelle quindi siete lì e dite ma io potevo venire a mezzogiorno tranquillo invece no alle 8 eravate lì insomma questa è la mattina dei milanesi lo sappiamo però noi cerchiamo di rendervela un po' più dolce un po' più musicale un po' più anche informata un po' più consapevole dell'essere milanesi e quindi un po' di musica fa sempre bene alle vostre orecchie e fa bene al vostro animo e quindi di conseguenza ascoltiamoci i Pink Floyd con Money Viaggio Antonacci con Iris alle 8 e 38 minuti di oggi mercoledì 22 maggio giornata per ora non piovosa incrociamo le dita lo continuo a dire a tutti e anche a quelli che continuano a scriverci dicendo che sono preoccupati per l'acqua che è venuta giù in questi giorni e per l'acqua che verrà giù nei prossimi giorni insomma teniamo cerchiamo di tenere e speriamo appunto di non avere nuove sorprese all'orizzonte leggevo un po' prima sui giornali così un po' le notizie un po' mi viene da dire che è difficile riuscire a darvi delle notizie la mattina che non vi facciano cadere nello sconforto e nello angoscia sappiate che io ne faccio faccio veramente una classificazione scrematura pazzesca di notizie che non vi voglio leggere che tanto comunque trovate sui social trovate in giro però questa mattina a un certo punto io Repubblica Milano ha diciamo un paio di notizie grosse messe sopra nel sito poi ne ha due quattro cinque sei sette otto nove dieci una dozzina più o meno anche di più quasi venti messe piccoline con foto piccoline sotto divise tra attualità e diciamo cronaca così e stamattina leggevo e dicevo ma com'è possibile che noi riusciamo ancora a sorridere la mattina leggendo queste notizie perché davvero un'ora ma angosciante allora si parte con la rissa la statale fra le tende degli studenti per Gaza i militanti di lotta comunista e proprio palestina arrivano alle mani e questa mi assicuro che è quella più leggera perché poi abbiamo pestato da cinque rivali in piazza a crema grave un ventunenne milanese bene spaccio in via gola e aggressioni 13 ordinanze pusher attivi giorno e notte i clienti pagavano le dosi con i cellulari rubati operaio resta a Brescia invece operaio resta con il braccio incastrato in un nastro trasportatore molto grave femminicidio di Jan Malico e Dimitru Stratan cercò sul web come preparare un veleno poco prima di ucciderla poi cosa c'è Alessia Pifferi che è in sciopero della fame a San Vittore dopo lo condannano a Norgastolo poi chiede le nozze di urgenza perché è in fin di vita pensate voi va bene e poi vabbè qui anzi il comune risponde ma non con la PEC la vedova mancata fa causa e vuole 229 mila euro di risarcimento pensate voi nuovi casi legionella controlli a tappeto da TS nei comuni a sud di Milano cioè è una roba continua così è una roba continua così Calolzo Corte una lite sui social e poi l'agguato Luca Scini devo parlarti si costituisce dopo un mese l'aggressore dell'ex pugile Marasco cioè è tutto così è una roba il gioco delle tre carte per derubare turisti stranieri cinque arresti dei vigini al castello Sforzesco di Milano cioè è tutta una roba così io davvero non so come facciamo ad andare avanti ma a suo punto mi chiedo questo sono queste notizie cioè questa è la domanda nel senso che io capisco che ma è possibile che notizia uguale angoscia uguale cronaca nera uguale morti uguale a distruzione cioè non possiamo trovare un modo di fare giornalismo diverso in realtà insomma darmi un'occhiata al sito del Corriere del Ticino così ho detto andiamo un po' agli svizzeri cosa fanno e nella sezione svizzera insomma in realtà ho visto che insomma non è che sono tutto così che non funziona tutto così cioè sì sono notizie varie nel senso c'è il clima ad esempio critiche alla sentenza CEDU contro la Svizzera alla Berna poi cosa c'è i dipendenti della Roche ecco i dipendenti della Roche sono stati esposti alla sostanza cancerogena ma poi c'è ad esempio una notizia in prima pagina in notizia in prima pagina il Corriere del Ticino trasporti viaggi su treni e bus il biglietto elettronico va acquistato prima della partenza anche vabbè cioè grazie questo lo sapevamo però vabbè poi parla di turismo competitività turistica insomma c'è un po' di tutto poi devo dire che insomma anche lì si vedono notizie che non è che proprio fanno perché ad esempio c'è condizioni di detenzione inumane e degradanti al carcere di Porrenturi che va chiuso quindi questo è in Svizzera insomma quindi rimane così il giornalismo è uguale a brutte notizie notizie che ci devono mettere per forza angoscia chissà perché Rick Astley never gonna give you up 8.45 minuti ancora qualche minuto per leggervi qualche notizia ad esempio come leggiamo da Repubblica dove c'è un articolo interessante che parla così il titolo è questo Adolescenti tecnologia e sessualità la scuola che insegna i genitori che si sentono fragili l'iniziativa del pedagogista Daniele Novara cerchiamo di offrire le informazioni che servono per educare bene i figli qualsiasi sia la loro età ebbene sì si tratta quindi di una scuola gratuita e finanziata da Fondazione Cariplo che assieme ad altri sponsor hanno appunto proposto questa iniziativa con a capo Daniele Novara pedagogista e saggista docente di Master Vesta Cattolica presidente di un centro dedicato a questi problemi che ha inventato appunto una scuola genitori che si svolge in molte città italiane tra cui appunto Milano per aiutare i papà e le mamme a risolvere dubbi e problemi legati alla crescita dei loro figli il prossimo appuntamento di questa scuola genitori sarà al teatro Oscar di Via Lattanzio 58 il 30 di maggio dalle 20.45 alle 22.45 prenotazione obbligatoria una scuola aperta a tutte le famiglie che cercano una guida per affrontare l'intrico di emozioni per affrontare l'intrico di emozioni e di ansia legate all'infanzia e all'adolescenza è giusto l'ho letto male io però insomma io ripeto Novara dice che la nostra è una scuola di servizio cerchiamo di offrire le informazioni che servono per educare bene i figli qualsiasi sia la loro età il problema oggi è che i genitori si sentono e sono fragili appunto spiega Novara non c'è più quella distanza che noi definiamo distanza educativa che permette di trovare la mossa giusta il più delle volte di fronte ai problemi posti dai figli scatta la reazione di carattere emotivo il più delle volte sono azioni basate sulle urla mi sembra di vedere una generazione di genitori urlanti io con il mio team di esperti cerco di dare risposte e sostegni l'incontro appunto sarà il prossimo il 30 di maggio e dice che sarà dedicato al sonno non so cosa significa ma in realtà detto così non so cosa significhi sta di fatto ecco perché dice è molto importante dormire nella crescita spiega appunto il pedagogista se a tre anni ci vuole il pisolino a sei non ci vuole più ma quando ragazzo ha 14 anni bisogna fare in modo di proteggere il sonno dall'invadenza digitale quindi occorre dormire senza la presenza di display dispositivi tecnologici che in qualche modo rischiano di ridurre la quantità di riposo necessario per poter poi di giorno dare il meglio a scuola e nelle relazioni ecco signor Novara pedagogista magari se non usiamo il dare il meglio a scuola ecco nel senso che secondo me a 14 anni di dare il meglio a scuola non gliene può fregare di meno però è vero che questa qui è una scuola per genitori quindi è giusto parlare così che invece i genitori tutti hanno in ansia perché devono tutti andare benissimo a scuola avere il prossimo Stephen Hawking il prossimo Nobel per la fisica nucleare in famiglia quindi no va bene sono d'accordo Novara ai genitori diciamo così ai figli magari diciamo non so dormire bene per poi essere prestante con la tua fidanzata cioè secondo me funzionerebbe meglio come paragone ok se dormi bene sei più figo nella tua compagnia ok se dormi bene fai le battute più divertenti cioè non so come dire potremmo usare questa chiave credo Novara secondo me con i ragazzi invece con i genitori giustissimo che si faccia notare questa cosa qui è interessante vedere come appunto il principale nemico del sonno del buon sonno dei più giovani non è i pensieri non è il climate change non è l'ansia climatica ma il digitale cioè il fatto di avere quei maledetti display azzurri di fianco al letto e che ci vengono ogni tre per due da toccare e andare a leggere io sono uno di quelli non ho 14 anni ma spesso volentieri mi capita davanti alla notte se apro gli occhi boh tocco il cellulare un po' per vedere che ore sono quando insomma basterebbe una radio sveglia delle vecchie maniere ma soprattutto così vedere c'è qualche notifica chi è che mi può mandare una notifica alle tre del mattino alle cinque del mattino chi è buona meno notifica nessuno 8.55 minuti mercoledì 22 maggio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano grazie a tutti voi prima di chiudere lasciatemi fare però gli auguri a qualcuno che ci ascolta spesso la mattina sto parlando del nostro amico Cristian Spalla che quest'oggi compie gli anni grande grande compagno di quarantena di lockdown in cui dai nostri due balconi confinanti davamo musica a tutto il quartiere con le famose due canzoni dal balcone allora tanti auguri al mio compagno di lockdown al mio compagno di musiche durante il lockdown anche a colui che insomma su un tetto a un certo punto facciamo anche un concerto su un tetto distanziati distanziati ma insomma lui capogruppo leader del gruppo musicale i shoulders insomma quindi davvero tanti tanti auguri a Cristian Spalla non è il suo compleanno ma sicuramente vi fate un regalo a voi se lo ascoltate dopo di noi Ambrogio Curti si con senti questa è il più bel regalo che potete farvi nella mattina ascoltare le grandi storie della musica raccontate e poi anche ascoltare la musica che vi fa che vi mette sul piatto appunto il nostro bravissimo Ambrogio Curti alle 9.05 dopo il giornale radio con senti questa noi ci sentiamo domani mattina sempre qui dalle 7 alle 9 su Cristal Radio con Good Morning Milano grazie mille ancora a Elisa Galmarini alla produzione alla regia insomma sta facendo di tutto in questa settimana quindi davvero grazie per il tuo lavoro buona giornata a tutti a domani ciao ciao